Cari amici, è un mio piccolo, piccolo contributo per questo 75esimo 25 aprile. Il mio pensiero innanzitutto va a Lampi, Sindacati, a Libera, a tutte le associazioni, ma un pensiero particolare va alla comunità di San Benedetto del Porto e a Don Gallo. Vero, generoso, grande, attento, partigiano, che non c'è più. Ma che continua a vivere, a camminare con noi. Io unisco in questa giornata a voi, con forza, memoria che dobbiamo più che mai trasformare in impegno, in una memoria viva e molto, molto operativa. Anche perché non dobbiamo dimenticarci che la libertà che ci ha consegnato la resistenza, la libertà della Costituzione, della democrazia, è infatti, non dimentichiamolo mai innanzitutto, una grande responsabilità. Responsabilità di costruire il bene comune, di garantire a tutti, tutti, casa, lavoro, lavoro vero, istruzione, le cure, diritti che sono fondamentali e che sono le premesse di una vita dignitosa e libera. Ma della libertà che ci ha consegnato la resistenza, voi lo sapete molto bene, troppi hanno fatto un uso egoista, se non criminale, come dimostrano le ingiustizie e le disuguaglianze che emergono più che mai oggi con l'emergenza sanitaria, ma non solo. Il 25 aprile deve allora rappresentare una grande svolta, una presa di coscienza ancora di più, una memoria che si fa a motore di speranza e di cambiamento. Per dire basta alle ingiustizie, alle guerre, alla devastazione ambientale, per dire sì all'appello di un cambiamento vero, non un semplice adattamento. Un cambiamento per liberarci dalle mafie e dalla corruzione, dalla produzione e dal commercio d'armi, da un sistema economico selettivo ingiusto che arricchisce pochi a spese di tutti gli altri, alimentando la povertà, la disoccupazione e tanta disperazione anche nel nostro Paese. Pensiamo a tanti giovani in cerca di lavoro, agli anziani soli e abbandonati, al vergognoso locausto dei migranti, vittime dell'egoismo e, lasciatemelo dire, anche di tanta indifferenza di parte della politica. Insomma, un cambiamento che venga dal basso, da dentro, da un impegno umile, costante, condiviso e da coscienze vive e inquiete, ribelli all'ingiustizia e alla menzogna. Sia questo il nostro 25 aprile. La libertà. La libertà è di tutti o non è libertà? E la libertà in Italia, in gran parte, deve essere ancora liberata.